Un tributo che, prima ancora che un gesto doveroso, rappresenta un omaggio affettuoso a un uomo che ha sempre interpretato la professione di avvocato penalista come una missione. La Corte d'Assise del Tribunale di Nuoro ha ospitato il 23 dicembre la cerimonia per l'intitolazione della Camera Penale all'avvocato Antonio Busia, uno dei più noti penalisti nella storia del Foro di Nuoro, scomparso il 3 novembre 2012. L'avvocato Antonio Busia è stato sicuramente uno dei protagonisti principali della storia giudiziaria della Sardegna, quindi parliamo dei processi degli ultimi 40-50 anni, non solo per la verità in Sardegna ma anche nella penisola, soprattutto quando erano coinvolti imputati di origine sarda. E quindi rappresenta per noi penalisti della Camera Penale di Nuoro una figura centrale, importantissima, soprattutto anche per il suo rapporto che ha sempre avuto nei confronti dei giovani, è veramente stata una figura importante, che ha rappresentato un punto di riferimento per tutti. L'evento, coordinato dal Presidente della Camera Penale di Nuoro, l'avvocato Salvatore Muru, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Nuoro Andrea Soddu, del Presidente del Tribunale di Nuoro Vincenzo Amato e del Presidente del COA, Angelo Mocci, ha ricordato, attraverso l'intervento di numerosi avvocati, la figura di Antonio Busia, punto di riferimento ed esempio illuminato per intere generazioni di avvocati.